Anche Cleopatra Oltre a Marcello, Daniela aveva Cleopatra, la vecchia cagna gialla che dormiva nell'angolo della veranda illuminato dal sole. Spesso Cleopatra sognava e agitava spasmodicamente le zampe posteriori, lasciandosi sfuggire un guaito. Ogni volta che constatava come anche Cleopatra sognasse, Daniela considerava che la sua vita e quell'animale avevano la stessa dignità. E che anche le vite umane nel loro complesso sono uguali, perché tendenti tutte al medesimo fine che è la costruzione interiore. Daniela rimaneva così certa che non esiste un esempio di vita esteriore, perché la vera vita è quella intima. Il brano che segue è del maestro immateriale conosciuto come Entità A, che comunica attraverso Corrado Pian Castelli, un medium storico per tutti gli addetti ai lavori. Numerose sono le pubblicazioni di questo cenacolo, tra cui la prima e famosa, Rapporto dalla dimensione X, notevole capillare e lavoro pubblicistico che il cenacolo ha svolto grazie al professor Giorgio di Simone. Ecco il brano. Non ci può essere un esempio di vita. Tu puoi benissimo continuare a fare tutte le cose che hai fatto, stai facendo e farai, ma è il rapporto fra te queste cose che deve cambiare, non le cose da fare nella vita. Cambia il modo di rapportarsi con l'evento che diventa interiore, sicché apparentemente tu continui a fare le stesse cose, ma con mutato atteggiamento intimo.